Opposizione in piazza per chiedere le dimissioni del sindaco Paolo Foti. La manifestazione si terrà sabato prossimo a partire dalle 17 nel piazzale antistante il comune di Avellino. Tranne l'Udc al momento tutti hanno aderito all'iniziativa presentata questa mattina dai consiglieri Dino Preziosi e Domenico Palumbo, assenti per impegni gli altri esponenti della minoranza. Per Palumbo è giunto il momento di iniziare a fare opposizione sul serio. Se necessario dice siamo pronti a non partecipare più ai consigli comunali. L'obiettivo è di mettere la maggioranza di fronte alle sue responsabilità. Preziosi chiama a raccolta la società civile e promette un'opposizione dura. Il sindaco deve prendere atto che non c'è più una maggioranza, né la città può essere usata come merce di scambio per le lottezzazioni all'interno del partito. La responsabilità vera secondo me è dei consiglieri, non del sindaco, dei consiglieri che sostengono un'amministrazione che è insostenibile, nel senso che all'interno di un gruppo o di una maggioranza ci sono 4-5 correnti rispetto alle quali non danno la possibilità al sindaco di poter fare qualcosa, ammesso che ne abbia voglia e capacità, ma quando anche un sindaco va ad autocommissariarsi mandando una lettera alla direzione nazionale e a quella regionale dicendo che è pronta a dimettersi, allora arriviamo al colmo. Quello che noi vogliamo fare sabba è qualcosa a cui non saremmo mai voluti arrivare, però ci rendiamo conto che il consiglio comunale ormai è diventato un fastidio per questa amministrazione. Gli ultimi consigli comunali, negli ultimi 3-4 mesi, si sono potuti fare perché la minoranza ha garantito il numero legale e addirittura l'ultimo consiglio comunale, come fu successo anche sul bilancio, ci fu un fuggifuggio generale dalle file della maggioranza, noi dell'opposizione rimanemmo in aula e chiedemmo di continuare il consiglio comunale, cioè quando si alza poi un consigliere di maggioranza e chiede il numero legale per far decadere il consiglio, significa che ormai siamo alla frutta, ma questo su vari temi ormai siamo in una posizione in cui non è più possibile nessuna mediazione, bisogna andare verso un cambiamento radicale, bisogna essere risoluti, ma soprattutto con molta onestà noi dobbiamo cercare di coinvolgere tutti i segmenti della società civile che non hanno interessi sulla città, che vogliono lavorare per la città, soprattutto perché ormai un sistema di potere che dura da 40 anni è talmente logorato, è talmente stanco che non ha più niente dove potersi leggere.